Nella bellissima cornice del Palazzetto dello Sport di Erice, domenica 12 aprile, si è svolto il Campionato Nazionale di Arti Marziali, al quale hanno partecipato atleti provenienti da tutta la penisola. L'evento è stato magistralmente organizzato dalla World Martial Combat Federation Italia, con il patroginio dell'ASC CONI, grazie all'instancabile e prezioso lavoro del segretario generale, il professor Gino Vitrano. Gli atleti del Centro Studi Karate, guidati dal maestro Vincenzo Ursino, responsabile nazionale di Cata, anche per questa edizione hanno fatto incetta di medaglie, rappresentando la Calabria nel migliore dei modi e conquistando ben tre ori e un argento. Dal 1988 ad oggi il Centro Studi Karate ha collezionato una serie crescente e inarrestabile di riconoscimenti, evidente testimonianza dell'alto livello di qualità e del costante impegno di questa associazione sportiva. Sulla strada tracciata dal suo presidente e direttore tecnico Vincenzo Ursino. Proprio grazie all'inarrestabile impegno del plurititolato Ursino, infatti i ragazzi del CSK acquisiscono un insieme di valori e regole accompagnati da una ferra disciplina. Dall'altra parte, per capire bene la grande fama del Centro Studi Karate, basta dare uno sguardo al curriculum vita del maestro Ursino. Al campionato nazionale di arti marziali su tutti, speccato il nome di Vincenzo Figliomeni, che ha conquistato il titolo nazionale del Cata con musica e in quello con le armi totalizzando il punteggio più alto di tutta la manifestazione sportiva. Sale sul podio più alto anche Vincenzo Macri, Orone e Cata tradizionali, che insieme a Figliomeni faranno parte degli Azzurri d'Italia, ovvero della Nazionale Italiana di Arti Marziali, ai prossimi campionati del mondo di Malta. Da segnalare inoltre la prestazione di Antonio Gurnari, che conquista un meritatissimo orgento.